Le tracce del disastro lasciato su tutto l'Abruzzo dall'ondata di maltempo del gennaio 2017 sono ancora oggi tangibili, in primis nel Terramano. Grazie all'azione propositiva del lancio Abruzzo si è riusciti ad inserire nel decreto rilancio un comma particolarmente importante che dà la possibilità ai comuni interessati di poter contare su uno stanziamento di 100 milioni di euro che permetterà di dare risposte certe alle molteplici problematiche rimaste ferme per troppi anni. In merito alla vicenda il Comune di Terramo pubblicato l'avviso per la presentazione delle domande da parte di titolari di attività economiche, produttive e privati per il risarcimento dei danni subiti a seguito degli eccezionali eventi meteorologici della seconda decada del mese di gennaio 2017. Può sembrare paradossale e può sembrare anche una cosa che è avvenuta con molto ritardo. In realtà l'intensa attività messa in campo sia dal Presidente dell'Anci regionale, ovvero dal nostro Sindaco, dal Commissario per la ricostruzione Legnini che ha saputo nei meandri dei fondi per la ricostruzione trovare dei fondi per riconoscere ai cittadini i danni subiti nel gennaio 2017, siamo riusciti a trovare questa disponibilità economica che attualmente è di 100 milioni di Euro per il solo Abruzzo, affinché tutti coloro che hanno subito dei danni, che ovviamente con un annesso di causalità dovuti al maltempo del gennaio 2017, potranno richiedere al Comune entro il 31 marzo per poi essere mandati al vaglio dell'OSR, e quindi per verificare la fondatezza e la vericità delle dichiarazioni che saranno messe in campo. Parliamo del 31 marzo e può sembrare anche un tempo molto tranquillo per poter predisporre le carte. Bisogna allegare una progettazione, bisogna allegare tutti i documenti che dimostrino la validità della richiesta, quindi non solo dichiarazioni e perizie tecniche fatte dai tecnici, laddove ci sono atti coevi di sopralluoghi fatti da enti statali e non solo enti statali, che possono dimostrare il nesso di causalità, dovranno essere messi all'interno di questa richiesta per poi essere trasmessi al Comune. È un lavoro che può sembrare abbastanza semplice, ma poi tecnicamente ha bisogno di tempo e ha bisogno anche di una dimostrazione in modo palese del danno che è stato causato, quindi del nesso di casualità.